Previsioni del tempo. L'estate si manterrà eccezionalmente buona su tutto l'Oltrepo grazie alla straordinaria convenienza che si trova all'arredo mercato Oltrepo. Acquisti sereni a prezzi imbattibili, con una scelta infinita di mobili di qualità di ogni tipo, anche di mobili rustici. Splende la convenienza in migliaia e migliaia di articoli. L'estate più conveniente è qui. Arredo mercato Oltrepo, il numero uno. E' immenso. Arredo mercato Oltrepo, Cicognola, a 3 km da Broni, in direzione Casteggio. Posti incantevoli per una passeggiata bella e conveniente.